Ragazzuoli non nego di essere assolutamente commosso oggi perché dopo praticamente un mese a causa di quei bastardi può ritornare questa serie qui che comunque sono certo che regalerà anche oggi un certo tipo di emozioni vedendo quello che effettivamente sarà il contenuto e gli episodi ovviamente commentati ieri dai nostri cari amici quindi alla fine è vero si ritorna dopo tanto tempo ma non per colpa mia per causa di forza maggiore però si ritorna abbastanza bene ed è per questo io che vi invito subito a lasciare un mi piace per farmi capire che anche a voi in un qualche modo era mancata questa serie a me prepotentemente infatti mi è scesa anche una lacrimuccia ieri finita la partita quando ho realizzato che avevo avuto la possibilità di fare questo video qui e soprattutto come al solito se ancora non l'avete fatto iscrivetevi perché è importante non fate incazzare perché voglio dire dai oggi è una giornata di festa nell'anno triste di per sé ogni tanto una sorta di sorriso è giusto avercelo oggi abbiamo un sorriso abbastanza importante non neghiamolo detto questo dato che di roba ce n'è abbastanza che poi neanche tante in realtà però vabbè dai premessa e partiamo e già partendo dal presupposto che juventus napoli non è una partita banale di per sé figuriamoci in questa stagione perché noi siamo qui a parlare di una partita che si sarebbe dovuta giocare sei mesi fa quindi insomma il tempo è passato pochino a maggior ragione già che c'è un certo tipo di rivalità un certo tipo di odio sportivo quest'anno figuriamoci quest'anno l'abbiamo buttato in cacciara proprio dalla terza giornata di campionato e smettiamo di parlarne ora infatti figa io spero che nella prossima stagione juve napoli sia l'ultima partita del girone d'andata perché io questi qui fino a gennaio non li voglio vedere con tutto il bene del mondo belli buoni e simpatici però una certa da sei mesi ce li porti indietro hanno rotto i maroni ma invece a noi giustamente ci interessa comunque altro perché in attesa di giove napoli 0 a 2 ho friddingulo chiaro criptico a tratti però nel senso mi sento di concordare 22 aprile 2018 io c'ero e non dimentico arripigliamoci quello che uno la pronuncia quella che è il messaggio è chiaro l'epilogo invece è un pochino diverso però va bene alla fine si vi siete ripigliati un attimino quello che vi siete presi nel 2018 tante speranze tante aspettative sto giro più prima della partita che dopo però alla fine è sempre lì si è sempre lì il dolorino rettale sempre da quella parte ed è giusto così se loro non vogliono giocare scendete in campo lo stesso il protocollo è chiaro tranquilli noi scendiamo in campo lo stesso ma voi siete sicuri poi che scendendo in campo le cose andranno per il verso giusto chiedo chiedo noi scendiamo in campo noi eravamo scesi in campo anche sei mesi fa siamo scesi anche ieri nonostante i due positivi quando qualcuno con due positivi non si era presentato e tu abbiamo vinto uguale la meraviglia del paradosso alle volte ma questo perché questo perché finalmente dopo tanto tempo il nostro gran visir ha deciso in un qualche modo di rintervenire di ridire la sua finalmente sulla juventus dopo un periodo che sembrava quasi sparare sulla croce rossa perché l'altro ieri padovan in vista di juventus napoli si è espresso in un determinato modo juve allo sbando probabile sconfitta e ritorno di allegri e la cosa assurda è che in tanti tifosi juventini lo speravano anche mentre invece io non ce la faccio quando si parla di juve napoli ma quando si parla a prescindere di una partita della juventus per poi eventualmente sostituire l'allenatore non so perché ma io spero sempre in una vittoria della juventus so purtroppo questo vizio qui e me lo riconosco oggettivamente me lo riconosco però cosa ci posso fare sono fatto così e poi direi comunque a grandi linee di fare iniziare la partita che a me faceva cagare nelle braghe sin da subito è giusto essere sinceri però purtroppo no anche la partita deve iniziare a una certa è giusto che inizi no alla fine siamo stati anche abituati così a meno che qualcuno non si presenti però ieri è successo e alla fine direi di passare praticamente agli episodi clou perché all'inizio sì Ronaldo si cicca un gol praticamente a due centimetri dalla porta inspiegabilmente poi trova l'1-0 una decina di minuti dopo grazie a un Federico Chiesa tanto per cambiare sontuoso e poi e poi a cosa si arriva si arriva ovviamente a Chiesa che viene steso in area di rigore da Lozano perché purtroppo a volte bisogna parlare anche degli episodi contro la juventus ogni tanto purtroppo tocca farlo dipende più che altro ovviamente come lo si fa e dato che siamo all'interno di questa serie come lo si farà mai no no quello della Juve non è rigore Chiesa si è buttato bande sce... insomma sta fuori campo Chiesa leggete il regolamento so che non è rigore se io ti vengo addosso fuori aria sicuramente non è rigore se non è in aria il rigore è un fallo fatto in aria di rigore ma svegliatevi il campo era finito Gazzetta manca un rigore lo scandole fare il check su Ozyman check scritto in un modo anche abbastanza particolare dettagliato in modo anche abbastanza anglofono se mi permettete e va benissimo così quindi direi di andare avanti ma quello di Chiesa era una palla gigantesca lo sfiora e cade come solo Chiesa sa fare quello di Zelischi di una gravità inaudita ma ci arriviamo dopo perché dato che mi si parla di regolamento mi si invita addirittura a leggere il regolamento perché Chiesa è stato preso fuori dal campo ecco dato che invitate anche a leggerlo dovreste quantomeno conoscerlo a grandi linee il regolamento dovreste sapere che cosa dice il regolamento quando ci sono dinamiche simili e cosa dirà mai il regolamento inspiegabilmente che era calcio di rigore non so perché probabilmente un regolamento che hanno modificato ad hoc ieri sera tra il primo e il secondo tempo per far capire che effettivamente c'era un rigore contro la Juventus perché si fa fatica oggettivamente a riconoscerlo si fa fatica anche se vabbè ormai in questa stagione la costanza è il calcio di rigore contro la Juventus quando si parla di Napoli però figuriamoci riconoscere un calcio di rigore non dato alla Juventus perché Chiesa si è buttato Chiesa era fuori dal campo poi se non conosci il regolamento e sei bocelli onestamente sì Chiesa si è buttato e il regolamento dice che non è rigore poi però esiste quel mondo fatato chiamato realtà però riconosco che sia faticoso ed aver iconati all'idea di riconoscere che avete provato anche a fare un furto con scasso non da poco ma nonostante tutto niente vadi cosa ci vogliamo fare vi vogliamo bene per ciò che siete noi vi vogliamo bene così mentre invece qualche minuto dopo sì c'è stato un episodio che come abbiamo appena visto tra l'altro era di una gravità inaudita con Zielischi che viene sfiorato stramazza al suolo in lacrime e tutto quanto qualcuno potrebbe anche forse parlare di sceneggiata partenopia per dire ovviamente mentre invece sì era calcio di rigore ragazzi diciamo la verità perché altrimenti poi si va dalla parte del torto però gestamente poco ci importa perché se quello di Chiesa ovviamente o ha simulato o regolamento dice tutt'altro no su quello di Zielischi bisogna soffermarsi con la giusta attenzione perché comunque è importante bisogna sempre passare per vittime anche se si è tremendi carnefici come per esempio nella partita di ieri per fare un esempio ovviamente non dai questo su Zielischi non era rigore questo su Zielischi era rigorissimo mentre Buffon che chiede all'arbitro la sua munizione per simulazione non è un buffone è un buffonissimo però dato che tu non sei una giornalista ma una giornalistissima no vedendo che anche un certo tipo di seguito sui social mi sarebbe piaciuto un tuo commento sull'episodio invece di qualche minuto prima ma non so come mai non l'hai fatto è una roba a dir poco inspiegabile e come è inspiegabile un giocatore che chiede la munizione perché dice oddio proviamo noi a tirare l'acqua al nostro mulino è una roba a dir poco inspiegabile però non è stata munito Zielischi vedi un po' così come non è stata munito Lozano così come non è stato munito Esai che trattiene Ronaldo lanciato verso la porta e non viene neanche munito quando in una ripartenza trattiene Quadrado di ieri non è stato munito praticamente nessuno quindi cosa ci vogliamo fare purtroppo di accendo atterrano Zielischi il buffone anziano chiede il cartellino il VAR guarda Netflix spengo ah ecco infatti è acceso proprio nel momento giusto o hai fatto finta di accendere nel momento giusto per non parlare di ciò che è capitato prima però ovviamente anche in questo caso lo capiamo è comprensibile carezzina e va a cagare qui di sopra si può dire che nonostante tutto alla fine anche ieri la squadra che ha rubato soprattutto poi al netto degli episodi come abbiamo visto e la Juventus in un qualche modo sono più tranquillo sono più tranquillo perché mi auguro possa essere una costante quantomeno da qui a fine stagione è per questo che sono tranquillo non peraltro tanto Purini loro quando si parla di Juventus sono sempre vittime nonostante appunto il terzo rigore in tre partite contro la Juventus tutti anche abbastanza forzati mi sento da dire però in un qualche modo bisogna sempre tenere vivo lo spettacolo però questa volta non è bastato neanche in Supercoppa era bastato in campionato purtroppo sì però poi come abbiamo visto unico tiro in porta della partita infatti la stagione 2020-2021 della Juventus contro il Napoli può essere sintetizzata come un ti fanno un tiro e prega perché poi loro non faranno più nulla e dipende tutto da te purtroppo nella partita di ritorno prima partita della storia dove il ritorno si è giocato prima dell'andata il calcio di rigore è bastato ieri ieri purtroppo per loro no e quindi 2 a 1 2 a 1 e direi di far finire la partita e dispiace oggettivamente dispiace perdere con una squadra più mediocre della nostra che è stata una costante abbastanza frequente anche degli ultimi anni appunto tranne la piccola parentesi della partita di ritorno dove avete avuto la fortuna di incontrare un Morato e un Ronaldo che in due non ne facevano mezzo ma di è un dispiacere purtroppo lo riconosco che sia un dispiacere ed è un dispiacere un pochettino per tutti sì il miglior in campo per la Juve? Mariani beh però oddio la Juventus c'era mica giocato in azzurro ci ero diventato daltonico può essere può essere tutto tranquillamente anche poi come è bello rubare le partite primo tempo rigore su Zelischi nettissimo non dato che parliamo a fare sempre le solite ladrate sì questo è come quello di prima che ha acceso solamente in quel momento e ha commentato solo quello però invece lo so che l'hanno vista tutti e tutta però devono in un qualche modo anche loro come Buffon il buffonissimo tirare l'acqua al loro mulino in questo caso è un po' ridicolo però alla fine non che io sia stupito di questo ci hanno abituato al ridicolo degli ultimi anni e quindi lo accettiamo la Juve deve giocare la Champions perché poi dobbiamo gioire nel vederlo uscire onestamente sarei felice anch'io di vedere la Juventus uscire in Champions l'anno prossimo significa che quantomeno avremmo preso un certo tipo di incassi avremmo preso qualche milione tra qualificazione, gironi e quant'altro che ci potrebbero dare la possibilità di fare anche un mercato di un certo tipo sarei molto felice anch'io se poi tu sei anche felice eventualmente di giocare l'Europa League non prendere uno spiccio neanche per sbaglio solo per vedere la Juventus uscire dalla Champions di contenti tutti veramente racchiude perfettamente il vostro DNA e ciò che siete e grazie per averlo specificato per l'ennesima volta e poi soprattutto c'è anche chi la prende abbastanza bene dopo la partita e ovviamente si parla di testate giornalistiche di un certo livello anche passare da Juve Napoli a Bayern PSG e come cambiare sport non è un caso che Ronaldo giochi un recupero di Serie A e non un quarto di Champions dove vanno a velocità tripla il nostro è un calcio di Serie B e pensa prenderlo anche nel culo nella stessa sera che roba dir poco meravigliosa però vedi mi è piaciuto il fatto che per quanto riguarda il quarto di finale di Champions League abbiano parlato solo della Juventus e ci mancherebbe altro non ne hanno giocato uno in tutta la loro storia quindi però è giusto per soffermarmi su questo piccolo dettaglio che ho particolarmente apprezzato per finire mi sembra doveroso fare un piccolo recap tramite un giornalista che negli ultimi mesi prima ha goduto e poi perché si parte ovviamente da dicembre quando viene finalmente accolto il ricorso al CONI giustizia è fatta, accolto il ricorso del Napoli Juve Napoli si gioca e tolto il meno uno sentenza dedicata a tutti quelli che avevano brindato e gioito in anticipo da incorniciare la sentenza del CONI tutta bella lì carica, bella, piena di sogni, di speranze e di consapevolezze no? perché si gioca vi faremo un gulo tanto così no? una roba di questo genere e poi vabbè ma ancora non è finita substitution 3 a 0 out, 0 a 3 in quindi un certo tipo di consapevolezza capite? mentre invece poi una volta passati i sei mesi una volta passati anche i tre mesi abbondanti dopo il ricorso del CONI purtroppo capita di dover giocare la partita e il riassunto che ci tiera a fare Carlo Alvino una volta finito al match è questo qui pur la fine partita riprovevoli da parte dei dirigenti della Juventus in pieno stile giorni d'oggi si spera che qualcuno abbia sentito e riportato nel referto arbitrale meritano la squalifica è un brutto epilogo però eh Carlone è un brutto epilogo dopo che per sei mesi eri consapevole del fatto che giocando la partita sarebbe finita in tutt'altro modo tanto che appunto 3 a 0 out, 0 a 3 in mentre invece poi se una volta finita la partita se una volta finita quella partita che pensavi realmente sarebbe finita 0 a 3, 0 a 4, 0 a 5 ti vai attaccare alla speranza di una squalifica dei dirigenti juventini per delle urla significa che hai avuto un tracollo non da poco negli ultimi sei mesi dai Carlone ti voglio bene ed è proprio per questo che ti voglio bene perché anche te ti riassumi perfettamente con questi quattro tweet tesoro mio o magari te l'ha detto il capo della comunicazione del Napoli di dire certe cose che può essere anche quello eh alla fine hai dato dimostrazione di essere un ottimo servo della gleba da questo punto di vista ma niente ti voglio bene ma sapete poi pensandoci qual è il vero karma no e questo lo riprendo da ciò che ha scritto Michele Fusco su Twitter ieri sera e che se qualcuno fosse sceso in campo il 4 ottobre non ci sarebbe stato Chiesa perché era ancora la Fiorentina non ci sarebbe stato Rabiot che ieri ha fatto una partita mica da ridere poi no il 17 marzo è meglio rinviarla va bene non c'è Paolino Di Bala pensa te pensa te gli sliding doors anche nel calcio ma va bene così va bene così e io ho detto questo spero di parlare del Napoli veramente a gennaio basta cioè i maroni pieni per questa stagione con tutto il bene già tre volte l'abbiamo affrontata voglio dire basta basta fino a gennaio spero basta adesso puntualmente sarà la prima partita della prossima stagione ma questo è un altro discorso e come al solito io mi auguro che il video vi sia piaciuto che vi abbia intrattenuto a dovere noi ci vediamo nei prossimi giorni e speriamo di rivedere questa serie anche magari lunedì così per dire perché qui mai dire mai io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 Ciao